Io credo che ho fatto il possibile, forse anche l'impossibile. Dopo lo sciopero della fame di Andrea Busetto e la telefonata del Ministro dell'Agricoltura Gianmarco Centinaio, qualcosa si è mosso nella lotta agli animali selvatici che ogni anno causano milioni di danni alle colture. In particolare la Regione Marche ha adottato una serie di misure in risposta alla piattaforma programmatica presentata da Coldiretti. Con il nuovo assetto normativo ora è possibile cacciare il cinghiale su tutto il territorio regionale. C'è un piano di controllo che permette agli agricoltori azioni di cattura dirette degli ungulati anche senza licenza di caccia. C'è un nuovo statuto tipo per gli ambiti territoriali di caccia. È prevista l'attuazione del regolamento unico per il risarcimento dei danni all'agricoltura da selvatici. E a livello organizzativo interno ora c'è l'unificazione del servizio caccia con l'agricoltura. In più la Regione ha rivisitato il piano di controllo del cinghiale e ha creato una commissione tecnica che definirà criteri e obiettivi che le squadre di prelievo dovranno rispettare. Pena la sospensione per un anno dell'attività sull'area precedentemente assegnata. Con la legge regionale si è riattivata la caccia nelle zone dove l'ordinanza del Consiglio di Stato fermava. Il secondo aspetto importante è stata una riflessione che ci ha permesso di andare a guardare sui meccanismi che già avevamo avviato perché il piano di contenimento era stato già adottato e approvato, quegli aspetti che ne limitavano l'efficacia. Quindi l'idea di poter far catturare il cinghiale sia nei campi dove il conduttore e il cacciatore sia quello dove non lo è mettendo in atto azioni con il supporto della Regione che permettessero di installare queste trappole dappertutto e affinando il meccanismo poi di abbattimento del cinghiale. Il secondo ancora più forte è l'intervento diretto sul campo quando immagino sia anche la cosa più pesante per un agricoltore cioè vedere un campo coltivato e i cinghiali che scorrazzano sopra non poter intervenire. La precedente misura prevedeva un'attesa di 6 ore, 12 ore per poter effettuare l'intervento. Abbiamo spostato verso un intervento immediato. Se l'agricoltore, il conduttore, il cacciatore comunica e lo fa direttamente lui se non lo è ci sarà un selettore di fatto legato al territorio che potrà intervenire. Soddisfatto lo stesso Andrea Busetto che realizzerà a breve dei recinti di cattura nei propri terreni pur criticando il prevedimento in alcune parti. Chiaramente sulla pressione del mondo anche agricolo la Regione Marche in questa delibera ha dato il permesso a tutti gli agricoltori di difendersi. Questo dal nostro punto di vista è positivo. Quello che secondo me è inaccettabile è fare un cambio di direzione così repentino e soprattutto continuare a insistere che la caccia al cinghiale diminuisce il numero dei cinghiali. Questa è la questione fondamentale.